A scuola di Maria Regina della Pace, mese di novembre 1983 Pregate e digiunate. Non meravigliatevi se insisto nel dirvi così. Non ho altro da dirvi. Non solo dovete aumentare le vostre preghiere, ma cercare di sentire un anelito continuo verso Dio. La vostra stessa vita deve trasformarsi in preghiera. Dunque pregate quando potete, come potete, dove potete, ma sempre di più. Ognuno di voi potrebbe pregare anche quattro ore al giorno. So che oggi avete lavorato tanto, ma vi prego, siate pazienti e generosi e continuate a pregare. Non confessatevi per abitudine, per rimanere come prima, senza alcun cambiamento. No, così non va bene. La confessione deve dare un impulso alla vostra vita, alla vostra fede. Deve stimolarvi ad avvicinarvi a Gesù. Se per voi la confessione non significa questo, in verità vi convertirete molto difficilmente. Se volete essere felici, fatevi una vita semplice e umile. Pregate molto e non andate nella profondità dei problemi. Lasciateli risolvere a Dio. Mi chiedete perché sono così bella? Sono bella perché amo. Se volete essere belli anche voi, amate. Pregate almeno una volta al giorno il credo e sette parte la vegloria, secondo le mie intenzioni, affinché tramite me si possa realizzare il piano di Dio. Pregate. Non state a domandarvi perché vi chiedo sempre delle preghiere. La vostra preghiera personale si intensifichi e si riversi sugli altri. Pregate il più spesso possibile questa preghiera di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. O Gesù, noi sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai offerto il Tuo Cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. Noi sappiamo che Tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del Tuo Cuore fa che tutti gli uomini si amino. Sparisca l'odio tra gli uomini. Mostraci il Tuo amore. Noi tutti Ti amiamo e desideriamo che Tu ci protegga col Tuo Cuore di buon pastore e che ci liberi da ogni peccato. Gesù, entra in ogni cuore. Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché non abbiamo capito il Tuo amore. Bussa continuamente. Fa, o buon Gesù, che Ti apriamo i nostri cuori, almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua passione sofferta per noi. Amen. Rivolgetevi al mio cuore immacolato con queste parole di consacrazione. O Cuore immacolato di Maria, ardente di bontà, mostri il Tuo amore verso di noi. La fiamma del Tuo cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini. Noi Ti amiamo tanto. Imprimi nei nostri cuori il vero amore, così da avere un continuo desiderio di Te. O Maria, umile mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Tu sai che tutti gli uomini peccano. Donaci, per mezzo del Tuo cuore immacolato, la salute spirituale. Fa che sempre possiamo guardare alla bontà del Tuo cuore materno e che ci convertiamo per mezzo della fiamma del Tuo cuore. Amen. Io sono la vostra madre, piena di bontà, e Gesù è il vostro più grande amico. Non rimanete in silenzio davanti a Lui, ma apritegli il cuore. Confidategli le vostre sofferenze e le vostre aspirazioni dal profondo del cuore. Sarete così rinvigoriti nella preghiera e pregherete con un cuore libero, in una pace senza paura.